buongiorno buongiorno a tutti come sapete io non sono abituato a fare le dirette perché non c'ho l'umore giusto di farlo se oggi lo sto facendo è per due semplici motivi se a volte c'è qualcosa sbaglio perché non sono bravo a parlare sto parlando in italiano allora voglio precisare per quanto riguarda ieri ci sono state dei fuochi qua nel nostro quartiere ma voglio precisare che non erano dedicati a mio padre perché voi sapete bene che è la festa patronale e giustamente rispettano come se come posso dire la loro usanza no però ho visto stamattina che hanno scritto che era dedicata al boss rossi michele mi sono stancato se mi potete fare una cortesia voi voi che state in video no potete condividere potete potete pure dire la verità che non è non è dedicata a mio padre poi per quanto riguarda miglio miglio io parlo con te ma scusate se sono volgare con voi non con miglio con voi io parlo con te miglio mi rotti i coglioni i coglioni ma ma proprio rotti cioè se tu fai così miglio mi ha finito che mi fai incazzare di brutto e poi veramente passi i guai perché ti metti meno in colla tu a padma la lascia aperta tu e a legge lasciato tu perde ma vi da fa questa cortesia e mo i fuochi e quando è uscito il brano il brano texas e hanno fatto una polemica per quanto riguarda boss dedicata bast 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 cioè noi stiamo per i fatti nostri ma perché non ci lascia aperta ma veramente quelle le persone devono fare i cattivi se devono fare i cattivi non lo so se devono fare i cattivi non lo so non è la minaccia perché non so per voi la minaccia di cristiana perché mi conosce lo sa cioè non sono abituato proprio a fare queste cose qua però se voi ogni voi ogni volta non voi che stai guardando si parla sempre di miglia legge prefetto quello e quell'altro ogni volta russi michele russi michele russi michele il boss russi michele ucciso non ucciso basta queste parole perché a farei a rimanù non l'attene l'altro e ogni volta dicono ucciso 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 c'è l'amma a farei l'amma proprio a farei meglio qua di un boss c'è un boss sta senza vita e sei tu quando vi usci un mater vi senza mascherina stanno a parcheggiare di magra a far spostare i magra a parchi già di mandato ruinedica ma ucciso 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 uffini o no? scemi e sei oggetto che manca con gli uccisci sicura magari uscite e sbattare capace con l'u Skiso uccisionne e basta basta basta, poi per chi sa per quanto riguarda i fuochi, se sono dedicato, allora se era dedicato a mio padre, cioè non mi nascondevo, cioè mettevo pure la fuo di mio padre, ma siccome che non è dedicato a mio padre, non è per niente dedicato a mio padre, ve lo posso garantire, perché ora io ho contattato gli avvocati per quanto riguarda questa cosa qua, ma mi sento fottere, perché fin quando è la verità, uno accetta, accetta pure, ma quanto è una bugia, perché andano a mettere solamente a spronzere per fare pubblicità, io sono qua immediato, sul Foggia Tutail, sul Telenorm, mi hanno detto pure se ho fatto Telenorm, sempre Rossi Michele, Coccione, Boss, quello, quell'altro, cioè, quando mio padre stava qua, che faceva delle feste, cioè lo sapevo tutto il mondo, tutti, ma, ma, perché hanno dice che stufò che è dedicato a Padre, se era dedicato a mio padre, avrei fatto io la video, cioè, la diretta, o fossi detto io, ma non è vero, non è vero, niente, facciamo, facciamo, miglio, ma va che cazzo è giunanza, miglio, cerca di fare campi di cristiani, da posto di lavoro di cristiani, da posto di fai un scemo, da posto di fai un magnaccio, perché tu sei un magnaccio, tu sei solo quella, sì, qua stanno i cristiani che ci morano di fai un problema, e tu sei un scemo, scemi, scemi, io non lo so, commentate, commentate, cioè, vedete voi, se ho torto, mi dite che ho torto, cioè, io non so neanche come è stato il fuoco, perché non l'hai visto il fuoco, perché non devo capire per il fuoco, anche per me, se non è stato strappato, non c'è un magnaccio, cioè, non è stato il departamento, perché ancora non mi prendo il departamento, oddio, per noi il departamento soffrono tutto, per noi, il departamento soffrono tutto, per noi, il departamento soffrono tutto. Cioè, non vuoi fare queste cose qua, perciò, cerchi di finirlo, se no, veramente, io te lo giuro, e te lo giuro su questo, su mio padre, ha veramente che è andato un momento che ha veramente che ha metto il mele in colla, e mi fa rascare, e poi non sono io, cioè, può veramente vi dare volte di cristiani, perché la rivolta dalle persone vengono in buona fede, cioè, nel senso che le persone vedono che tutto questo che è stato scritto, questo che è stato fatto, non è, non è, non è stato fatto da noi, se è stata fatta la Madonna, voglio il problema, fammi capire, Miglio, se è stata fatta la Madonna, voglio il problema, e se l'hai stata fatta la lavoro, la Madonna, io cacciassi la lavoro di soldi, pure mi hanno usato la vestita, vorrei dire, puttana, io cacciassi i soldi, la Madonna, sì, sì, qual è il problema? Cosa che tu non fai? Perché qua si isoli, mi hanno usato ogni anno, per fare i fuori, per fare la festa, noi, tutta la popolazione di San San Francisco, tu non i facessi scemi, io non lo so, io non lo so. Voi che sapete? La verità, perché voi lo sapete la verità, chi è stato qua, cioè, nel quartiere Texas, lo sa, se è realmente stato fatto per il mio padre, oppure no, se non è stato, se non è stato fatto per il padre, vi chiedo solo una gentilezza, una gentilezza, scrivete quello che avete scritto qua a Facebook, e tagliate a Miglio, cioè, mi hanno andato proprio a fangulo, mi hanno andato proprio a fangulo a sto scemo di merda, poi per quanto riguarda la polizia, ti ripeto, io non ci stavo, perché non mi va, non mi va, ancora non mi va, di vedere le feste, ancora non mi va, che c'era la polizia, cioè, la polizia non ha fatto un cazzo, anzi, si è seduta, cioè, si è seduta, si è messa vicino alla macchina e guarda i bifugi, che ha fatto la polizia, per come mi è stato riferito, vi ripeto, per come mi è stato riferito, io non lo so, dicimelo un po' quello con me, ragazzi, vi chiedo solo la costesia, dovete commentare, fate girare questo video, Laura, Coggi, lasciate stare, avete già un grande dolore, fargli parlare a sta gente di merda, Michele Vainella, buongiorno, fra, non pensare a nessuno, e lo so, fra, però, sentirevi sempre il nome di mio padre, oddio, sono contento che si senta il nome di mio padre, pure dalla morte ci sento un nome di mio padre, io sono contento, non è che non sono contento, però, sulle cose giuste, non sulle cose sbagliate, Tonia, zio, non pensare a nessuno, quelli se ne inventano sempre delle nuove, per dare avido alla gente di parlare, sti bastardi non vanno riposare in bacio a mio zio, dono sempre che dice, Laura Calò, è un cuore grande, Manu Scirocco, i soldi sono stati raccorti per la festa della Madonna, ok, se poi c'è stato qualcuno che ha fatto la dedica, era un suo pensiero, a noi non interessa, noi rispettiamo il lavoro, è un cuore appunto, bravo, primiano, il fuoco era per la madre, la caprugna, Tonia, l'hanno pure vutata, du bastardo, soli, giusto Antonio, sono dei pagliacci, io la cosa, io rispetto tutti, anzi, rispetto chi si mette di rispetto, però, giustamente, cioè, rispetto alla miglia non vuoi, perché non è una frequente, proprio alla miglia, non è una frequente, però ragazzi, vi dico solo una cosa, arrivare il momento che miglio si prenderà mazzato, mi è separato non già, mi è separato non già, ma lo sai perché dico questo? Perché mi sono stancato, un uomo da Padma, l'anna la sa, perde, l'anna la sa, perde, stalla sopra perché non lo so come stai, ma poi, ce l'ha detto un'altra cosa, in bici che l'ha fatta, tu, è nato un questionario politico che non faccio nome, perché, non lo faccio, lo sai perché, perché questa persona qua fa il suo lavoro, va bene? E non, 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 non parla delle persone, non parla no di me, no di mio padre, no di altre persone, hai domani niente, come è l'orda? E tu, ti ti parla proprio se vuoi no, che ti ti parla tu? Scegli, che ti ti parla? Comunque, io ti avviso miglio, non è una minaccia, chi mi ha detto un buon arro a questo video, chi mi ha detto un uomo e questo, chi mi ha detto tu? Lì, un uomo da Padma non fa più, perché altrimenti io ti parla, che pagare il nome, ok? Lo visito, non te lo avviso più.